Cecilia e Ignazio sono stati a Saint-Tropez, ma adesso si ritrovano senza soldi e fanno il campeggio, una nuova avventura. Allora da oggi inizia la nostra vera vacanza in camper, ci siamo appena piazzati qui in un campeggio in Provenza, ci sono preparati il letto, ci arriverà la cena, qui nella nostra piccola casetta. Ma che robetta ho! Niente ho finito tutti i soldi a Saint-Tropez e sono dovuto adattare quello che siamo riusciti a fare. Ercolino, che ci vengono la bagatella a fare il figo adesso? Ma non è venuto lui! Finito, campeggio! Ovviamente si scherza, non sono rimasti senza soldi, ma vogliono provare l'ebbrezza del campeggio, visto che sono sempre serviti e riperiti. Finito, Grazie a tutti.